Buonasera, benvenuti a una nuova edizione del TG6 che apriamo con il consueto bollettino Covid. Oggi in Abruzzo sono 35 nuovi casi, due morti e 186 i guariti. Intanto prosegue la campagna vaccinale anche nei piccoli centri e diversi comuni delle aree interne, ha dichiarato Marsilio, sono già Covid free. Sono 35 i casi di Covid registrati oggi in Abruzzo. Il più giovane 3 contagiati ha 10 mesi, il più anziano ha 84 anni. La provincia dell'Aquila è quella con il maggior incremento di casi, ne sono 16. Seguono il Teramano con 9 casi, il Pescarese con 6 casi e il Chietino con 3 casi. Uno dei contagiati invece proviene da fuori regione. E' quanto emerso dall'analisi di 3.615 tamponi molecolari per un tasso di positività dell'1%. Il bilancio dei pazienti deceduti registra due casi e sale a 2.484. Si tratta di una 97enne della provincia di Teramo e di una 66enne della provincia dell'Aquila. Considerando anche gli ultimi 186 guariti, attualmente in Abruzzo sono 5.340 e positivi accertati, 153 in meno rispetto a ieri. Di questi 127 pazienti, 10 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale e in area medica. 14, uno in più rispetto a ieri, sono quelli in terapia intensiva, mentre gli altri 5.199 positivi, 144 in meno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Alcuni comuni delle aree interne sono già covid free, ha annunciato il presidente della regione Marsilio in occasione della conferenza stampa per la vaccinazione dei piccoli centri. Da lunedì saremo in zona bianca, salvo sorprese, ma non credo proprio che ci saranno, i dati continuano ad essere molto incoraggianti. La vaccinazione prosegue, nei piccoli dei piccolissimi comuni, stiamo presentando i primi risultati della vaccinazione massiva fatta sul posto, andando a raggiungere i piccoli e piccolissimi centri. Sono risultati molto importanti, un dato su tutti, in questi comuni della provincia dell'Aquila dove siamo andati sul posto erano state prenotate circa 400 persone per la vaccinazione e ne abbiamo vaccinate oltre più di 660, c'è più del 50% di incremento di adesione della popolazione e abbiamo anche individuato soggetti fragili, ultraottantenni che non erano stati censiti e che non erano stati segnalati alle strutture sanitarie. Quindi un lavoro di dettaglio, di andare in profondità che già oggi può dichiarare diversi comuni dell'Aquilano, della Gran Sasso, Aquilano come comuni sostanzialmente liberi dal virus. Andiamo a Pescara, la giunta targata Carlo Masci ha approvato gli elaborati tecnici che andranno a riqualificare le aree di risulta dell'ex stazione centrale. Stefano Recanati. Da 34 anni Pescara e i pescaresi aspettavano una risposta per la riqualificazione dell'area di risulta. Nei giorni scorsi la giunta ha approvato l'ultimo atto amministrativo che preannuncia il definitivo bando. Un progetto da 56 milioni di euro che prevede un contributo regionale per 15 milioni di euro e di 4 milioni da parte della Fondazione Pescara Abruzzo. Quest'ultima realizzerà il parco di 66 mila metri quadrati al centro della città. È il parco più grande di Pescara dopo il parco d'Avalos, quindi parliamo di numeri veramente importanti, così come i parcheggi. Abbiamo privilegiato architettura di qualità e quindi i criteri che abbiamo stabilito nel bando sono criteri che permetteranno di realizzare strutture sostenibili dal punto di vista ambientale, che abbiano una qualità architettonica superiore. Ci saranno i parcheggi in numero sufficiente per il centro commerciale naturale. Totalmente cambiata l'area di risulta, quindi parliamo di una rivoluzione epocale che i cittadini di Pescara aspettavano oramai da troppi anni. I tempi quali sono? I tempi sono che entro la fine dell'anno individueremo il soggetto che realizzerà l'opera. In tre anni si realizzerà l'opera e dopo le caratterizzazioni del terreno, il progetto esecutivo, realisticamente i lavori partiranno a fine 2022. Sono tornati a manifestare in piazza i giornalisti abruzzesi. Quel che chiedono è che nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci sia spazio anche per l'informazione. Il dovere di informare e il diritto di essere informati in maniera corretta è pluralistica oltre che a dignità, lavoro e libertà di stampa. Per difendere tutto questo oggi sono scesi in piazza i rappresentanti delle sigle sindacali dei giornalisti. Il settore da un decennio sta soffrendo a causa della trasformazione del modello produttivo, con 3 milioni di posti di lavoro persi già nel periodo 2013-2018. I giornalisti scesi in piazza oggi hanno chiesto anche la salvaguardia dell'IMBG, il proprio istituto di previdenza. Vogliamo aprire una vera e propria vertenza sull'informazione per tutelare il diritto dei cittadini ad essere informati. Il mondo dell'informazione continua a vivere un lungo periodo di crisi come tanti altri settori. Quello dell'editoria sta diventando veramente difficile nell'affrontarlo. Abbiamo un precariato dilagante, c'è uno sfruttamento attraverso l'uso sconsiderato del co-co-co che determina una condizione mascherata di sfruttamento. Con tutto il rispetto possiamo dire che nell'informazione purtroppo ci sono i rider dell'informazione, ci sono i braccianti dell'informazione, colleghi che vengono pagati 5 Euro a pezzo. Poi soprattutto c'è la crisi che ormai dura da diversi anni e che attende delle risposte dell'IMBG, dell'ente previdenziale dei giornalisti. Noi abbiamo pagato in 10 anni 500 milioni di cassa integrazione e questi ammortizzatori sociali vengono finanziati dai contributi dei giornalisti attivi. È completamente diversa la norma rispetto a quella dell'IMBG. Quindi noi chiediamo al governo Draghi di aprire un'avvertenza d'ampio spettro, dalla difesa dell'IMBG per poter risanare e portare in equilibrio l'ente di previdenza dei giornalisti, al problema del precariato, alla legge sull'eco-compenso, al problema delle querele temerarie. Perché un giornalista sottopagato non è un giornalista libero, è un giornalista potenzialmente ricattabile. Quindi chiediamo che si affronti tutta l'avvertenza del mondo dell'informazione anche per quanto riguarda i finanziamenti. I finanziamenti non devono essere più a pioggia, bisogna finanziare le testate e le iniziative editoriali che fanno una sana e buona informazione. Quindi il governo chiediamo che trovi uno spazio per poter occuparsi anche del mondo dell'editoria e dei giornalisti. Perché svolgiamo un ruolo fondamentale nella società e garantiamo, siamo uno dei pilastri della democrazia, la libertà dell'informazione e l'indipendenza si chiama Coraggio Italia, il nuovo soggetto politico nato nei giorni scorsi alla Camera dei Deputati. Tra i leader c'è anche Gaetano Quagliariello che presenta così il nuovo partito, aprendo le porte anche alla coalizione nella nostra regione. Si è presentato ufficialmente il nuovo gruppo parlamentare Coraggio Italia. Si chiama così il nuovo soggetto politico voluto da Giovanni Toti e Luigi Brugnaro, rispettivamente presidente della regione Liguria e sindaco di Venezia. L'obiettivo dichiarato di Coraggio Italia è quello di ereditare l'elettorato moderato di centrodestra dal partito di Berlusconi, oltre a rifondare un'area moderata e liberale del centrodestra. Tra i fondatori di questo nuovo partito c'è anche il senatore Gaetano Quagliariello che, assoverato in Calabria, ha battezzato la prima di Coraggio Italia. Campano di nascita mabruzzese di adozione politica, Quagliariello ha delineato le mosse in vista dei prossimi appuntamenti della coalizione, lanciando segnali di distensione verso Forza Italia i cui rapporti non sono così distesi. Avere un centrodestra che sia equilibrato, nel quale ci sia la destra ma ci sia anche una componente liberale, conservatrice, che non schiacci l'occhio all'altra parte, che sia moderata ma che abbia la schiena dritta. Forza Italia all'inizio non l'ha vista bene però mi sembra che le reazioni iniziali sono state messe da parte. Francamente le porte di questo esperimento sono aperte e magari vi facesse parte anche Forza Italia. Anche in Abruzzo Coraggio Italia punta ad un ruolo da protagonista, facendo leva sulla costruzione di una nuova classe dirigente in grado di portare una ventata di novità in politica. Puntiamo a costruire quella classe dirigente fatta di esperienza ma anche di novità che forse fin qui è un po' mancata nella esperienza regionale. Ci sono ancora i tempi perché questo accade, ma è chiaro che bisogna cambiare qualcosa e noi chiederemo di cambiare qualcosa. Ci sono stati già dei primi contatti anche se non ufficiali? Contatti non ci sono sempre con i vertici regionali e con gli amministratori delle grandi città. Prima in qualche modo si teneva conto, se posso dire così, della mia esperienza e del fatto che forse sul campo mi sono guadagnato il titolo di portare qualcosa di buono a questa regione, anche in questa legislatura. Io spero che molto presto, oltre alla forza morale, ci sia anche una forza dei numeri. Nuova legge regionale voluta dal vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Sant'Angelo che pervede l'esonero della tassa per il diritto allo studio universitario per i detenuti delle carceri abruzzesi. Abbiamo approvato lo scorso Consiglio regionale una norma attraverso un emendamento da me sottoscritto che in qualche modo esonera il pagamento delle tassi universitari dalla parte dei detenuti, perché se da un lato è giusto scontare le pene all'interno del carcere, dall'altro è giusto dare una possibilità e la cultura e l'istruzione è il primo gradino che possa riabilitare le persone all'interno della società una volta che saranno scontate le proprie pene. In Regione Abruzzo, grazie al rapporto virtuoso con il Dottor Cifal di garante dei detenuti, è prima in Italia in questo ambito, altre regioni sicuramente seguiranno il nostro esempio e di fatto stiamo andando avanti in un carcere che non sia solo punitivo, ma che dì anche la possibilità di un riscatto sociale alla fine di un percorso di riabilitazione. Tutte le università hanno all'interno un CNUP, che è un centro di educazione per la popolazione penitenziaria, all'interno di questo abbiamo una serie di attività che si fanno, proprio di formazione, tra le varie attività che voglio portare avanti è anche creare un polo didattico dentro il carcere di Pescara, questo perché? Perché voglio portare tutti i ristretti che hanno intenzione di rimettersi in discussione e costruire un percorso formativo universitario in un unico distretto penitenziario, a Pescara, perché? Perché così possiamo dare biblioteche, servizi e possiamo concentrarle, attualmente sono dislocati in vari istituti, a Teramo, a Sulmona, a Lanciano, a Pescara, a Chieti, questo chiaramente mi crea fatica per dare servizi a tutti quanti. Noi dobbiamo pensare che le persone che sono dentro il carcere hanno sì commesso una pena, però non per questo non possiamo come società civile abbandonarli e soprattutto falliamo come società se non creiamo le condizioni di un rinserimento concreto, valido nel mondo del lavoro e della società. Si è svolta domenica scorsa ad Avezzano la cerimonia di svelamento della pietra per ricordare i quattro escursionisti morti sul Monte Velino nel mese dello scorso gennaio. Tanta commozione e un rispettoso, toccante e doveroso silenzio. La comunità marsicana si è riunita per ricordare i quattro escursionisti che hanno perso la vita durante una escursione in montagna sul Monte Velino. Valeria Mella, Gianmarco Degni, Gianmauro Frabotta e Tonino Durante, portati via da una valanga, sono stati ricordati in una cerimonia che si è svolta nell'area verte in via Aldomoro, già intitolata ai Vigili del Fuoco nella zona nord di Avezzano. Ieri, durante la cerimonia in ricordo degli Angeli del Velino, è stata posta una pietra con una targa dipinta a mano per non dimenticare quella tragedia che ha sconvolto un'intera comunità. Sulla lastra incastonata nella pietra che guarda verso il Velino, è raffigurata un'immagine che ha accompagnato tutto il popolo abruzzese nei lunghi e difficili giorni delle ricerche. Un cielo azzurro e quattro figure stilizzate in nero con i nomi di Valeria, Gianmarco, Tonino e Gianmauro. Le loro braccia sono rivolte verso il cielo e nella parte bassa è presente una scritta, che sia sempre il sorriso a condurvi sulle cime più alte. È impossibile dimenticare quel 24 gennaio 2021. I quattro amici escono per una escursione, ma tardano a rientrare. Scattano le operazioni di ricerca, poi i soccorsi. Una macchina straordinaria che ha visto per quasi un mese volontari, uomini e donne del soccorso alpino, delle squadre specializzate per il recupero in alta quota e di tutte le forze dell'ordine, lavorare insieme incessantemente. Un dispiegamento di forze senza uguali. I giorni delle ricerche hanno lasciato l'intero Abruzzo con il fiato sospeso nella speranza, mai totalmente sopita, di poter ritrovare i quattro escursionisti. Nel rispetto delle norme anti-covid erano presenti i familiari accompagnati dagli amici più stretti dei quattro escursionisti, alcuni rappresentanti dei soccorritori e gli amministratori del territorio. Il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, ha spiegato, commosso, che tenere vivo il ricordo dei nostri cari ragazzi è l'unico modo che abbiamo per non arrenderci al dolore. Toccanti poi le parole del Vescovo dei Marsi, Monsignor Pietro Santoro, dire che sono vivi non è ritorica, ha spiegato, perché sono vivi non nel tempo ma nell'eternità. I nostri ragazzi appartengono a questa storia, alla storia del nostro popolo, della nostra Marsica e delle nostre montagne. Cambiamo decisamente argomento, ho presentato ufficialmente il nuovo brand del Comune di Montesilvano che affiancherà il logo istituzionale del Comune. Si chiama Montesilvano E, il nuovo brand voluto dall'amministrazione De Martinis che vuole essere a tutti gli effetti un marchio per identificare Montesilvano in tutte le sue peculiarità. Il logo fa riferimento alla presentosa, un atto d'amore che il Comune fa a tutto il territorio di Montesilvano per attrarre quanti più turisti già a partire da quest'estate. Il nuovo logo richiama i colori del mare, del sole e del verde. Alla vigilia di una stagione turistica che ci auguroiamo appunto possa rilanciare non soltanto il territorio di Montesilvano ma il turismo dell'intera regione Abruzzo, noi abbiamo inteso dotarci di un brand che possa identificare la nostra azione amministrativa appunto le città di Montesilvano, il territorio di Montesilvano che ha una serie di peculiarità tali da poter offrire tanto da un punto di vista turistico e da un punto di vista della vita dei cittadini. Di conseguenza abbiamo ragionato unitamente a chi ha in qualche modo lavorato a questo brand qualcosa che potesse identificare il territorio, potesse dare un messaggio e abbiamo voluto poi che questo brand fosse una sorta di dono d'amore anche nei confronti della nostra città, tanto è vero che a rappresentare Montesilvano sarà un simbolo che riprende un po' la presentosa che è appunto un atto d'amore, un dono d'amore che sappiamo benissimo, chi si approcciava all'amata regalava proprio in segno di amore e quindi ci sono tutti gli elementi che identificano il territorio e ci auguriamo che questo brand appunto possa viaggiare il più possibile anche a livello nazionale e perché no anche internazionale per far sì che tante persone possano raggiungere il nostro territorio anche per questo messaggio promozionale. Abbiamo deciso in buona sostanza di seguire le linee che seguono anche le imprese private, del resto al di là delle procedure pubblicistiche siamo un'impresa a tutti gli effetti che punta sul turismo e quindi necessita di strumenti importanti come un marchio che possa essere riconosciuto sul territorio sia nazionale che internazionale e che quindi sia in buona sostanza accostabile ad una città, ai suoi prodotti, al suo territorio, alla sua qualità. Si chiuderanno il prossimo 11 giugno le iscrizioni al premio Di Nicola, ideato 13 anni fa dallo studente dello scientifico Einstein di Teramo, Vincenzo Di Nicola, è aperto agli alunni abruzzesi degli istituti superiori. Un premio questo che valorizza quegli studenti e quelle studentesse che hanno una particolare predilizione per la matematica. Vediamo. Il premio Di Nicola è un premio che porta avanti a 13 anni per gli studenti abruzzesi per motivarli a studiare matematica e discipline scientifiche. Il vincitore verrà ricompensato 700 euro in euro o bitcoin a scelta, il secondo classificato 300 euro e da quest'anno ci sarà anche un incentivo rosa, un premio extra offerto da mia sorella per la migliore studentessa ragazza meglio classificata. Centinei di ragazzi hanno partecipato in questi 13 anni a questo premio, molti di questi hanno poi fatto domande all'università all'estero, per esempio l'anno scorso, cioè quest'anno il vincitore di due anni fa è stato ammesso in un'ottima università americana. Altri ragazzi sono entrati ottimi professionisti in Italia e nel mondo, quindi sono contento perché ho fatto prendere loro coscienza dei propri mezzi e far sì che possano decollare e volare alto nel mondo. La cosa che mi piace, che vorrei è che sempre i ragazzi a Teramo capissero che non sono ragazzi nati in un posto come si dice qui nella provincia dell'impero, sono invece ragazzi che hanno ente competenze, talento, forza importante dentro che però non gli viene riconosciuta. A me piace far sì che questa forza emerga e far sì che loro capiscano che possono avere competere a livello mondiale. Io davvero ne ho visti tanti, le posso dire centinaia di ragazzi in questi anni e davvero ce ne sono tanti bravi. Quello che manca è un po' l'autocoscienza, la determinazione, la consapevolezza dei propri mezzi e questo è un po' quello che il premio vuole far affiorare. E ora lo sport, il consiglio direttivo della Lega Pro nell'assemblea di ieri ha votato all'unanimità il ritorno alla suddivisione orizzontale dei gironi, dunque di nuovo nord, centro e sud. Adesso mancano alcune caselle da riempire considerando le possibilità a fine giugno di eventuali forfè e relativi ripescaggi. Jacopo Forcella. La Lega Pro torna al criterio orizzontale per suddividere i tre raggruppamenti che si sfideranno nella stagione 2021-2022 per i quattro posti in cadetteria e definire chi abbandonerà il mondo dei professionisti. Ieri il consiglio direttivo ha modificato la struttura dello stivale per l'individuazione del modo con cui definire i gironi A, B e C. Lo ha fatto all'unanimità, con la necessità di contenere i costi, soprattutto dopo una stagione piegata dal Covid, facilitando gli spostamenti delle società e riducendo il più possibile le distanze per le trasferte. La decisione del consiglio è stata presa dopo il lavoro avviato a febbraio dalla Commissione per la composizione dei gironi, che ha fornito una base scientifica con dati e proiezioni rispetto a tutte le ipotesi al vaglio. Sulla base infatti della configurazione attuale e quelli sulla base della configurazione orizzontale, le analisi fatte hanno evidenziato un aumento di circa il 20% dei costi, prendendo in considerazione la suddivisione dei gironi sulla base della direttrice verticale. Il direttivo ha valutato anche la possibilità di un sorteggio integrale dei gironi, così come quella di un sorteggio basato su fasce di ranking. Sempre dai dati disponibili, tuttavia, è stato possibile constatare come attraverso un sorteggio la possibilità di ottenere costi complessivi superiori a quelli associate alla configurazione orizzontale fosse altamente probabile. Il percorso intrapreso dalle società, ha detto il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha permesso di trovare una soluzione pienamente condivisa con una decisione democratica e responsabile. La sostenibilità economico-finanziaria del sistema ha guidato qualsiasi valutazione e ringrazio, ha continuato Ghirelli, il direttivo e la commissione perché hanno operato in modo rapido e avveduto, comprendendo il momento storico che stiamo attraversando. Adesso parte la corsa all'individuazione delle partecipanti ai raggruppamenti con Pescara e Teramo, che dovrebbero finire accoppiate, ma c'è ancora da vedere in quale girone. E allora si guarda alle retrocesse dalla B, e il Pescara è una di queste, alle potenziali candidate a vincere il proprio raggruppamento in Serie D. Il Cosenza andrà certamente nel C, al Sud, mentre la Virtus Entella sarà nel girone A, al Nord. Probabile che anche la Reggiana possa essere inserita nel raggruppamento settentrionale, ma è una di quelle squadre in ballottaggio per finire al centro. Passiamo alle possibili promosse della quarta serie, per cui mancano in molti casi le ufficialità. Al Nord finirebbe il Gozzano, primo nel gruppo A di Serie D, il Seregno, capolista nel gruppo B e il Trento, prima della classe nel gruppo C. Nel raggruppamento centrale ci sono Aglianese, Aquila e Montevarchi, che qualora vincessero il campionato andrebbero nel B. Poi c'è il Campobasso, che sulla carta sembrerebbe potenzialmente adatto per il raggruppamento meridionale, mentre il Monterosi, che invece ha vinto il girone G, pare più adatto a terminare al centro. Una tra Taranto e Picerno comunque andrà al sud nel girone H, così come la CR Messina. Infine manca la vincente dei play-off di Lega Pro. Chiunque vinca lascerà una casella vuota da riempire e allo stato attuale le rimaste in corsa sono o da girone A, su Tirol, Ferral, Pisalò, Alessandria, Renate, Padova e Albino Leffe, o da girone C, Avellino e Catanzaro. Se una di queste dovesse essere promossa, la geografia del meridione potrebbe essere rimodulata, spostando una rappresentante del centro al sud. Considerazioni queste che non tengono poi conto della scadenza del 28 giugno, quando ci sarà il termine ultimo per le iscrizioni e successivamente, in caso di qualche forfè, dei possibili ripescaggi. Insomma, per sapere chi andrà dove c'è da attendere luglio e le relative ufficialità. Pietro Fusco è il principale candidato per il ruolo di direttore sportivo del Pescara. Nelle prossime ore il presidente Sebastiani dovrebbe sciogliere le ultime riserve, mentre per il ruolo di allenatore in pol c'è Gaetano Auteri in uscita dal Bari. E intanto ieri si è dimesso l'intero staff sanitario biancazzurro. Il professor Vincenzo Salini, che ne era a capo, lascia il Pescara dopo oltre 20 anni. Andrea Costantini. Sempre più vicino il momento del fatidico sì tra il Pescara e Pietro Fusco. La ricostruzione della rosa biancazzurra sarà con grande probabilità affidata al dirigente sportivo napoletano che a Pescara ha anche giocato nella stagione 2004-2005 con Simonelli in panchina e che in Abruzzo ha contribuito al miracolo del Castel di Sangro e ha anche indossato la maglia del Lanciano. I primi contatti tra Fusco e il presidente Daniele Sebastiani ci sono stati già un paio di settimane fa. Poi il massimo dirigente biancazzurro ha comunque vagliato altre soluzioni. Tra queste l'ultima a resistere è quella di Peppe Manari, giuliese trapiantato al nord, in uscita dal Novara dove ha ricoperto la carica di direttore tecnico. Anche se oramai anche le chance di Manari sembrano ridotte al lumicino perché la scelta ricadrà su Fusco che dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ha svolto gran parte della sua carriera alla Spezia dove è stato vice di Attilio Lombardo in prima squadra e poi tecnico di Berretti e Primavera. Successivamente al responsabile del settore giovanile, nel 2015 la promozione al responsabile dell'area tecnica carica ricoperta per un paio di stagioni. A ottobre 2018 è diventato DS della San Belenettese sotto la gestione Fedeli e è rimasto anche con il passaggio a Serafino che la scorsa estate gli ha prolungato il contratto fino a giugno 2022, salvo esonerarlo lo scorso gennaio. In caso di firma col Pescara Fusco dovrà prima risolvere il contratto con la Samb. Per la panchina Gaetano Auteri resta il favorito e la sua posizione sembra si stia consolidando con il passare delle ore. Auteri ha ancora un altro anno di contratto col Bari ma non resterà dopo l'eliminazione dai play-off. Per il mago del 3-4-3 c'è però anche l'interesse del Palermo con la possibilità per lui, si era accusano, di riavvicinarsi a casa e il Pescara dovrà guardarsi da questa opzione. Intanto a sorpresa è di ieri l'annuncio delle dimissioni dell'intero staff sanitario del Pescara capeggiato dal professor Salini che così si è espresso al portale forzapescara.com. La nostra uscita di scena in realtà non è un segnale, è normale che qualcosa è cambiato perché con la perdita del collega Ernesto Sabatini e con il pensionamento di Claudio d'Arcangelo il nucleo storico con il quale ho sempre lavorato e con il quale mi sono trovato sempre in sintonia è finito e quindi forse era il caso di cambiare, di far entrare in società qualcuno che avesse una maggiore, come dire, persone più giovani con grande entusiasmo, con la voglia di fare, quell'entusiasmo che avevo io quando ho iniziato con il commendatore Sibili e poi con Antonio di Veri nel 1999. E ora l'Under 19 femminile del calcio a 5, quest'oggi si è giocato Florida Pescara a Osta che si è conclusa 4 a 1 ai rigori per il Florida Pescara, i tempi regolamentari si sono conclusi 1 a 1 con il gol di De Siena, ora quindi si dovrà giocare la finale con l'FB Roma domani alle 15 al Palaroma per lo scudetto Under 19. Proseguiamo con la palla a volo, è partita con il piede giusto l'altino volley che si è giudicata gara 1 di semifinale a Imola per 3 set a 0, domenica alle 18.30 a Francavilla si disputerà gara 2, per il sestetto abruzzese c'è la possibilità di chiudere subito i giochi e volare in finale. Sergio Zappalorto Prima semifinale vinta, non senza timori, non senza rischi, ma vinta e vinta contro un'ottima avversaria, giovanissima ma brillante, acchiappatuta in difesa, trascinata dal duo Bughignoli-Lodi si parla logicamente dell'andata tra Imola e Altino, finita 0 a 3 con parziali, primi 2 a 23, da brivido, identici nello svolgimento, 2 volte 23 a 21 per l'Emiliane, 2 volte con Lestini, 19 punti in tutto, decisiva tra muri, schiacciate e altro, è la firma finale dell'Auleia. Per il resto, a parte la solita performance della Longobardi, 18 punti della bravissima Mancina, la squadra ha tenuto altissima la concentrazione, capace di reagire ai momenti difficili, alle pause che ci sono sempre, con la forza di ribaltare in modo analogo la criticità del momento e dominare l'ultima frazione, chiusa a 17, praticamente senza storia. Il tutto lascia presagire che sia un centimetro dalla finale, sebbene il prespapa, orgogliosissimo delle sue ragazze, predichi umiltà per gara 2, in programma a Valle Anzuca di Francavilla, domenica 6 alle 18.30. L'Altino cercherà di evitare sorprese, l'Imola resta temibile, ma anche di vincere col massimo punteggio, che darebbe alle rosso-blu la possibilità di incrociare, nella finalissima per l'A2, secondo regolamento, una formazione meno forte, almeno sulla carta, delle altre, particolare non da poco. Presupposti e aria che tira, insomma, decisamente proaltino, cuore, testa e tecnica, che sia finalmente la volta buona. Il tennis, seduta di allenamenti per Lea Malasdra, la campionessa di tennis, elemento di spicco della nazionale belga Under-14, da sempre seguita dall'età di 6 anni, durante le sue vacanze estive, dal tecnico abruzzese Silvestro Di Berardino, prima sui campi di Silvi e poi su quelli di Città Sant'Angelo. La promessa del tennis internazionale, di origine abruzzesi, con il nonno di Popoli, emigrante molti anni fa in Belgio, partecipa in questi giorni al torneo internazionale Tennis Europe di Pescara, dove si è qualificata, sbarazzandosi agevolmente di due seconde categorie. Lea Malasdra, lo scorso anno dopo il lockdown, da perfetta sconosciuta, non avendo potuto equiparare la sua classifica a quella italiana, ha disputato due tornei di terza categoria a Roseto e Città Sant'Angelo, aggiudicandoseli senza perdere nemmeno un set. E questa era la nostra ultima notizia, tutti quanti i servizi che avete visto sono disponibili sul nostro canale YouTube e sul sito www.tv6.it. Grazie e buona serata. Grazie a tutti.